Ok, eccoci qui, benvenute, benvenuti ancora una volta nella nostra sala virtuale di Casa delle lingue. Allora, vedete che è apparsa assieme a me, più o meno in contemporanea, anche Alberta Novello, che è pronta ad avviare la nostra formazione di oggi. Abbiamo ancora quattro minuti di attesa prima dell'inizio, perché state entrando numerosi nella nostra sala webinar, continuerete ad entrare. Al momento siamo a circa 70 persone collegate, ma dovremmo arrivare circa a 300, secondo quanto ci dicono le iscrizioni che abbiamo chiuso ieri, speriamo. Allora, nel mentre che entrate, che noi prepariamo gli ultimi dettagli tecnici, facciamo come sempre quello che stiamo già facendo, cioè il test microfono. Allora, se nella finestrella di chat che stiamo usando per salutarci mi dite intanto se mi sentite, sarebbe ottimo. E nel frattempo chiediamo anche ad Alberta di accendere il suo microfono e vediamo soprattutto se sentiamo lei. Se vuoi dirci qualcosa, Alberta? Sì, eccomi. Buonasera, buonasera a tutti. Vediamo se ci sentono. Io ti sento bene, mi sembra anche, mi sembra anche i partecipanti. Sì, ottimo, grazie del feedback. Bene. Feedback audio per il momento. Ecco, questo era il requisito più importante prima di iniziare. Allora, grazie per il vostro feedback intanto. Dunque, quella che sta per presentarvi Alberta Novello oggi è l'ultima formazione del nostro percorso formativo, che è partito a febbraio, sì, sulla correzione, ok? Quindi correzione e valutazione. Questo ciclo si chiude oggi, ok? Dopodiché, chiuso questo percorso, avremo l'ultima tappa dell'altro percorso formativo che abbiamo portato avanti in questi mesi, che invece è quello dedicato all'interazione, ok? E l'ultimo webinar, quindi presumibilmente prima della pausa estiva, quindi sarà il 7 giugno, sarà presentato da Giulia Grosso e il titolo sarà l'interazione orale nelle classi ad abilità differenziate, lo sviluppo della competenza interazionale di classe. Quindi, siamo molto contenti di come si sono svolti questi due percorsi formativi online fino ad ora. Abbiamo anche ricevuto degli ottimi feedback da parte vostra, quindi speriamo che anche voi la pensiate allo stesso modo. Allora, cosa faremo oggi? Cioè, cosa ci proporrà Alberta Novello? Alberta Novello, in quest'ultimo webinar su del ciclo correzione e valutazione, ci presenta un intervento dal titolo Valutare l'orale in classe, quali task e quali criteri. Quindi lavoriamo sull'oralità oggi assieme a voi. Il webinar di oggi, come gli altri che l'hanno preceduto nello stesso percorso formativo, sarà registrato, quindi fra qualche mese, sì, fra qualche mese, fra qualche giorno. Nel caso in cui voleste rivedervelo, magari perdeste qualche così parte della diretta e voleste recuperarla, sappiate che il video del webinar, assieme alle slide che vi mostrerà Alberta in diretta, sarà disponibile sul sito internet di Casa delle Lingue e sulla nostra playlist YouTube gratuitamente, quindi non andate in ansia. Se per caso perdete qualcosa, potrete recuperare, rivedere tutto. Oggi pomeriggio, quindi qualche minuto dopo la fine della formazione, riceverete come sempre una mail con il vostro certificato di iscrizione a questo webinar e con il link al canonico questionario di soddisfazione che vi chiediamo di rispondere a un questionario online molto rapido, vi prenderà giusto qualche minuto, ma che per noi è particolarmente importante proprio perché oggi si chiude questo nostro primo percorso formativo nella storia di casa delle lingue, quindi vorremmo sapere così globalmente qual è stato il vostro punto di vista. Ok, allora, detto questo, sono le cinque ore italiana, quindi a questo punto lascio la parola ad Alberta Novello e con voi poi ci rivediamo al termine del webinar per lasciare spazio alle vostre domande, che potete mandarci nel frattempo tramite la finestra domande e risposte, quindi se voi avrete tutti abbastanza familiarità con Zoom, presumibilmente ormai, ma sappiate che altrimenti quella finestra sta tra le opzioni di Zoom, ok? Quindi dove avete tutte le vostre funzioni del menu Zoom in basso, nella finestra Zoom, trovate anche quella con i due fumettini sovrapposti così, che si chiama pregunte se risposta, Q&A, QR a seconda della vostra lingua Zoom. Usatela per mandarci le vostre domande, perché adesso la chat noi la chiudiamo, quindi le domande per favore tramite la finestra domande e risposte, solo lì. Bene, tolgo il disturbo, buon webinar a tutti e a tutte e ci vediamo alla conclusione. Grazie, allora, io condivido quindi il mio schermo e procedo con la condivisione del PowerPoint, poi mi dite se è tutto a posto. Ok, allora, intanto grazie, mi chiudo qui così, ecco. Grazie nuovamente per questo invito che accetto e ho accettato molto volentieri, sono contenta di ritrovare gli amici di Casa delle Lingue e di passare un po' di tempo con voi. È stato molto bello leggere nella chat i vostri luoghi di provenienza e quindi è ancora più piacevole questa interazione dalle varie parti del mondo. Appuntatevi, come vi diceva Maria Vittoria prima, le domande, in modo da non perdere magari qualche dubbio, qualche chiarimento che avete in mente, che volete condividere o qualche altra curiosità che vi fa piacere chiedere perché a me poi fa molto piacere rispondere e interagire con voi. Come diceva Maria Vittoria prima, valutiamo e cerchiamo di capire quali sono le caratteristiche principali della valutazione in classe, nella classe di italiano, in particolar modo per quel che riguarda la valutazione dell'orale. Secondo me è sempre molto importante capire come organizzare la valutazione e proprio per questo motivo parleremo anche dei task, non solo dei criteri di valutazione dell'orale, ma anche di quelle che sono tutte le attività o almeno alcune delle attività che possono essere utili per organizzare il momento valutativo all'interno delle nostre classi. La prima cosa che ci deve venire in mente o a cui dobbiamo pensare quando vogliamo progettare la valutazione deve essere sempre questa domanda, cioè che cosa vogliamo osservare. Dobbiamo partire dal feedback che vogliamo ottenere. Io dico sempre che dobbiamo un po' partire dalla fine pensando a quali sono i dati che vogliamo raccogliere, a quello che ci interessa osservare. Quando parliamo di valutazione io suggerisco sempre di pensare all'osservazione, di pensare al fatto non di... dipende molto dal contesto in cui lavorate, siete di tantissimi posti diversi, contesti diversi, quindi poi ognuno deve adattare alla propria realtà. Però in un percorso formativo, in un corso di lingua, per qualsiasi tipologia di target, quindi di studente target, quello a cui noi dobbiamo pensare è effettivamente che cosa osservare. La valutazione deve essere intesa come osservazione. Perché? Perché abbiamo bisogno di capire quanto il nostro studente riesce ad agire con la lingua. Nel nostro caso specifico parliamo dell'osservazione del parlato, della produzione o dell'interazione orale. E progettando, come vi dicevo un attimo fa, il momento valutativo, dobbiamo chiederci dove vogliamo arrivare, qual è il nostro scopo. Per quanto riguarda il parlato, quello che ci interessa è fare delle previsioni sulla capacità d'uso dell'italiano. Ecco, questo pensiero, questa visione della valutazione, secondo me è molto interessante, perché fare delle previsioni sulla capacità d'uso nella lingua target è il fine ultimo dell'insegnamento linguistico. Perché insegniamo la lingua? Perché vogliamo che i nostri studenti siano in grado di utilizzarla in un contesto autentico. Ecco perché ci serve la valutazione, ecco perché serve l'osservazione. Per fare delle previsioni, per capire quanto italiano sarà in grado di utilizzare il mio studente fuori dall'aula, cioè nel contesto di vita reale. Se vogliamo effettivamente indagare questa sua capacità di utilizzare la lingua in un contesto reale, dobbiamo cercare di ricreare delle attività autentiche, di creare delle situazioni il più possibile vicine alla vita reale, se non a volte anche di interazione reale. Dobbiamo assicurare ai nostri studenti delle attività comunicative autentiche. Quindi parliamo di autenticità, in cui hanno parlato, qui vi ho messo se poi volete approfondire diversi studiosi, soprattutto per quanto riguarda l'abilità orale, che se pensiamo è l'abilità più utilizzata poi dai nostri studenti se si recano nel paese in cui si parla la lingua o se hanno occasione di interagire con dei parlanti che condividono lo stesso codice, in questo caso l'italiano. Quindi questa abilità che viene molto utilizzata quando ci si ritrova a interagire in italiano dovrebbe essere valutata in modo autentico. Ritorniamo a quello che stavo dicendo un attimo fa. Noi valutiamo per capire quanto italiano lo studente riesca a produrre oralmente, per capire se in contesto reale riesce a interagire nella lingua e a che livello. Ecco che per fare questo l'autenticità che dobbiamo prendere in considerazione è di due tipi, una situazionale e una cognitiva. Che cosa significa? Che dobbiamo cercare di proporre il più possibile delle situazioni autentiche, cioè dei contesti comunicativi autentici che riescano ad attivare dei processi cognitivi simili a quelli che si attivano nella vita reale. Vediamo più con calma che cosa significa questa cosa e come proporre l'autenticità. Ripeto un attimo questa cosa che secondo me è importante e che nei percorsi formativi viene a volte dimenticata. Perché? Perché si pensa molto all'utilizzo del parlato, dell'abilità orale in classe senza fare il collegamento con quello che è la vita reale. Quindi l'uso dell'italiano, in questo caso del parlato, nella vita reale. Quando, come dicevo un attimo fa, è davvero il fine ultimo dell'insegnamento linguistico. Che cosa vogliamo quindi osservare nei nostri task autentici? Dobbiamo capire quali sono i processi cognitivi che vengono attivati nel parlato. Perché? Perché noi li dobbiamo riproporre poi nei nostri task e quindi nelle situazioni comunicative che ricreiamo nella vita di classe. Gli studiosi ci dicono che ci sono alcuni passaggi che noi riusciamo a perseguire quando mettiamo in moto l'abilità orale in una lingua straniera o in una lingua seconda. Questi processi cognitivi sono abbastanza dettagliati. Vediamoli un attimo per poi capire quello che ci interessa effettivamente nell'attività didattica. Allora, il primo processo è quello della pianificazione in cui vengono effettivamente generate le idee. Quindi è un po' di... è una sorta di brainstorming che lo studente attua per capire il contesto e per trovare le idee collegate al contesto che poi permetteranno di generare la comunicazione orale. Quindi c'è una prima fase di pianificazione. Questa prima fase di pianificazione è seguita da una fase in cui vengono individuate le strutture e il lessico chiamata grammatical encoding. Lo studente, una volta individuato il contesto e l'area tematica di riferimento, quindi nella fase precedente di pianificazione, ecco che cerca di capire quali siano le strutture e il lessico adeguato per produrre degli enunciati legati all'area di riferimento pianificata. Successiva a questa fase c'è una fase secondo me molto interessante che si chiama fonological encoding e in questa fase avviene un passaggio complicato per un parlante di lingua straniera o seconda. Vale a dire la conversione dell'idea astratta in produzione fonologica. Quindi ciò che lo studente ha pensato e pianificato, le strutture e il lessico che è stato individuato viene prodotto in suono, quindi viene trasformato in parlato effettivamente. Ciò che è nella mente dello studente passa e viene, inizia anzi, ad essere comunicato. Attenzione che più il livello è basso dello studente, meno accurato è questo processo. Per cui quando abbiamo degli studenti che hanno un livello basso elementare avranno della difficoltà a trasformare in discorso parlato ciò che hanno pianificato. Perché? Perché non hanno sufficiente pratica per effettuare questo passaggio e non riescono ad individuare le strutture e il lessico di riferimento. Non riescono a individuarle in maniera veloce per il parlato anche perché non hanno sufficienti ovviamente strutture e aree lessicali di riferimento. Quindi questo terzo processo cognitivo è quello che mette particolarmente in difficoltà lo studente meno abile. Più lo studente è abile in questa parte, in questo processo è interessante notare che nel suo parlato produrrà un numero maggiore di chunks di questi frasi, elementi lessicali o grammaticali quindi queste strutture memorizzate, automatiche che produrrà in maniera molto veloce. Anche questo è un aspetto secondo me interessante perché? Perché quando lavoriamo per aiutare i nostri studenti a sviluppare l'abilità orale può essere molto utile lavorare sui chunks su queste strutture di riferimento che essendo corrette permettono allo studente di essere sicuro con delle parti di discorso che può produrre e a queste parti di discorso che conosce e che ha memorizzato poi riuscirà ad agganciare gli altri pezzi di parlato ed essere via via sempre più fluente. Diventa quindi un processo automatico ed è anche interessante notare in questa fase come gli studenti più abili cerchino di fare pratica mentalmente del parlato. Questa è una cosa simpatica ma che ci fa anche riflettere sulle nostre tipologie di studenti e sul loro livello perché è stato proprio dimostrato che uno studente abile e particolarmente motivato anche da solo anche mentalmente anche a casa fuori dal contesto scolastico fa pratica con parte del discorso parlato proprio perché ha voglia di provare a utilizzare la lingua e cerca di immaginare delle situazioni autentiche in cui comunicare in cui parlare quindi le immagina nella sua testa e si fa dei discorsi produce degli enunciati meno lunghi o più lunghi a seconda di quanta lingua voglia di provare a utilizzare. Ecco questo secondo me nel nostro campo didattico è molto interessante perché ci fa capire quanto gli studenti necessitino di provare a utilizzare la lingua di comunicare nella lingua target seguono a questi processi cognitivi iniziali dei processi più tecnici se vogliamo chiamarli così in cui c'è proprio la produzione vera e propria quindi abbiamo il phonetic encoding in cui ci sono delle possiamo chiamarle delle istruzioni cioè la mente dà delle istruzioni per l'articolazione quindi come muovere come utilizzare le articolazioni per produrre il suono che si realizzano con l'articolazione vera e propria che è una funzione motoria chiaramente infine abbiamo la fase del monitoraggio in cui lo studente controlla il messaggio prima e dopo cioè per farvi un esempio il parlante esperto riesce a controllare il messaggio prima e dopo l'enunciato prima per vedere se appunto ciò che ha pianificato riesce a uscire dalla sua bocca ad essere comunicato in maniera efficace e successivamente per capire se le intenzioni comunicative sono arrivate al parlante quindi si parla anche di intenzioni pragmatiche se sono state raggiunte o meno il parlante meno abile riuscirà a effettuare un auto monitoraggio un autocontrollo del parlato per quanto riguarda l'efficacia comunicativa basilare cioè se è riuscito a comunicare effettivamente ciò che intendeva comunicare ecco come vi dicevo questi processi cognitivi sono abbastanza tecnici e possono sembrare un po' complessi ricaviamo quello che ci interessa per la valutazione e per i nostri task adatti alla valutazione quello che ci interessa in maniera particolare quindi in ambito didattico valutativo è la fase di pianificazione del parlato della produzione orale dei nostri studenti e che trovo abbastanza interessante perché perché quando noi pianifichiamo dei task per osservare l'orale dobbiamo fornire ai nostri studenti la possibilità di attivare questi processi di pianificazione e di ricerca del lessico che in realtà lo studente stesso mette in moto nella vita reale ecco perché è importante come dicevo all'inizio l'autenticità attraverso i nostri task osserviamo effettivamente ciò che lo studente fa nella vita reale è chiaro che in classe noi facciamo delle simulazioni quindi non potrà mai essere uguale il task a ciò che poi lo studente troverà nella vita reale però può essere sicuramente molto molto simile lo rendiamo simile organizzando i task attraverso questi processi cognitivi e proponendo anche delle situazioni autentiche come vedremo tra un attimo riprendo un attimo la fase importante dei processi cognitivi che vedremo anche con un esempio a breve che è quella proprio della pianificazione del discorso della comprensione dell'area tematica di riferimento quando io parlante riesco a a identificare l'area tematica di riferimento aggancio le mie conoscenze al lessico alle strutture che mi possono servire e poi quando sono forte in questa prima fase di pianificazione ecco che riesco a produrre quindi a trasformare quello che io ho organizzato in maniera astratta in maniera pratica quindi nel mio enunciato nella mia produzione orale e per riuscire a fare questo ho proprio bisogno di pratica io insegnante che voglio valutare l'orale ho veramente la necessità di osservare i miei studenti durante l'attivazione di questi processi e quindi sarò in grado di capire quanto riusciranno a riprodurli nella vita reale questa è l'autenticità cognitiva quindi attivare i processi che vengono attivati con le abilità nella vita reale per rendere i nostri task per osservare appunto l'orale ancora più autentici dobbiamo proporre anche delle attività che siano autentiche dal punto di vista situazionale il quadro comune europeo di riferimento ad esempio già più di vent'anni fa proponeva degli esempi di task autentici e sono e sono questi quindi cosa suggerisce il quadro comune europeo di riferimento agli insegnanti di individuare alcune situazioni che possono essere simili a quelle della vita reale se poi voi riuscite a far interagire i vostri studenti con situazioni vere di vita reale ancora meglio sicuramente il framework ci dice di capire quali sono i luoghi o i momenti in cui lo studente può ritrovarsi a utilizzare il parlato nel nostro caso in quali organizzazioni o istituzioni con chi ha la possibilità di interagire con quali oggetti può trovarsi a lavorare possono essere anche oggetti di lavoro ad esempio quali sono gli avvenimenti in cui può essere incluso le azioni che può trovare a svolgersi e i testi di riferimento state attenzione che con testi si fa riferimento ad un'ampia gamma di comunicazione nel nostro caso di parlato perché noi comunichiamo sempre attraverso testi ok quindi il parlato la comunicazione specialmente quella anche quella orale avviene attraverso dei testi quindi in questo senso noi dobbiamo interpretare i testi che ci suggerisce il quadro comune europeo di riferimento e a seconda del livello o dei livelli del nostro gruppo di studenti cerchiamo quegli elementi che possono essere adatti per organizzare dei task autentici ok quindi mettiamo inizialmente insieme queste due cose l'autenticità cognitiva attiviamo i processi simili a quelli della vita reale in una situazione in un contesto reale o simile a quello della vita reale in questo modo riusciamo a creare dei momenti in cui il mio studente utilizza la lingua parlata e io insegnante ho la possibilità di osservarlo e come dicevamo all'inizio è quello a cui io auspico attraverso la valutazione cioè osservare lo studente per fare previsioni sulle sue capacità d'uso nella lingua target e capire quanta lingua conosce e come è in grado di utilizzarla con il parlato abbiamo visto che è particolarmente importante dobbiamo anche pensare ad un'altra cosa allora quando proponiamo questi task come vi dicevo autentici dobbiamo riuscire ad adattarli al livello o ai livelli dei nostri studenti vi faccio vedere un esempio di task autentici quindi le richieste che possiamo fare per quanto riguarda sempre il parlato ai nostri studenti con con la lingua e vi lascio veramente un minuto per appuntarvi a quale livello pensiamo sempre ai livelli del quadro comune europeo di riferimento corrispondano e poi lo vediamo insieme quindi un attimo vi lascio il tempo per leggerli e pensare al livello di riferimento di riferimento che Grazie. Grazie. Ok, allora immagino abbiate letto i vari task, nessuna interrogazione, anche se parliamo di valutazione, ma una riflessione un po' insieme. Vi metto qui il livello di riferimento e potete confrontare con la vostra idea. Quindi abbiamo discutere gli elementi critici di diversi tipi di raccolte fondi, pensato per un livello C1, ipotizzare una situazione guardando una foto o un video ed esprimere il proprio punto di vista, livello B2, analizzare l'utilità e la scelta di alcune foto per una campagna pubblicitaria, livello C2, riportare informazioni relative a prezzi e taglie di capi di abbigliamento, livello A2, descrivere cosa sta succedendo in una foto livello B1. Allora, non succede nulla se avete messo dei livelli vicini, chiaramente, ma la cosa fondamentale è capire che il carico cognitivo che noi richiediamo ai nostri studenti deve essere calibrato a seconda del loro livello. Vi faccio vedere questo esempio di gradualità delle richieste linguistico-cognitive che possiamo richiedere nei nostri task orali. Allora, partiamo da informazioni concrete per i livelli elementari, quindi livelli molto bassi, per passare poi a descrizione di situazioni, esprimere accordo o disaccordo, suggerimenti, ragioni, cause, paragoni, opinioni, negoziazioni, decisioni di ipotesi, giustificazioni, riassunti e valutazioni, commenti, sviluppo di argomenti. Quindi da un livello A1 barra A2 ad un livello C2, quindi il carico cognitivo aumenta. Perché? Perché abbiamo bisogno di più lingua per processare alcune informazioni. Abbiamo bisogno di più lingua, sicuramente più conoscenze e competenze linguistiche per sviluppare degli argomenti, per attuare delle valutazioni, mentre per esprimere delle informazioni concrete possiamo benissimo riuscire a farlo con un livello elementare. Torno un attimo alla slide precedente e vedete che ci ritroviamo. Ad esempio un livello C1 discute di elementi critici, di diversi tipi di raccolte fondi, quindi vi ricordate a livello C1 riusciamo a fare degli assunti, giustificare, analizzare delle negoziazioni e a un livello A2 riportiamo delle informazioni, dei prezzi, delle taglie, informazioni concrete, basilari. Livello B1 descrizione, infatti qui lo troviamo, ecco qui, nelle descrizioni di situazioni e riesco anche a esprimere accordo o disaccordo, d'accordo? Quindi quando pianifichiamo i nostri task per valutare gli studenti nelle loro abilità orali, dobbiamo sempre pensare a queste richieste di tipo linguistico cognitivo. Che cosa chiediamo ai nostri studenti? Quanta lingua riesce a processare con il livello linguistico interiorizzato? Quindi ritorniamo alla autenticità situazionale, perché gli esempi che abbiamo visto comunque sono simili a situazioni autentiche, e cognitiva. Vi faccio ora vedere un'altra cosa. Allora, quando organizziamo questi task, dobbiamo cercare di tenere a mente un po' quello che abbiamo detto fino adesso, cioè dare allo studente la possibilità di organizzare il suo parlato. Allo stesso tempo forniamo a noi insegnanti la possibilità di osservare i nostri studenti nel parlato. Vi faccio vedere a questo punto un esempio di task pensato per l'orale, quindi per osservare gli studenti mentre utilizzano le abilità orali. Vi chiedo di osservarlo in maniera critica, cioè pensando un po' a quella che è l'organizzazione del task, in modo da non ascoltare semplicemente me che lo descrivo, ma di essere un po' dei critici nei confronti dell'attività che vi faccio vedere, pensando oltre all'organizzazione anche ai processi cognitivi attivati con questo tipo di esercizio. Apro il file, poi se ci sono problemi Maria Vittoria, tu mi informi, io vado avanti. Allora, vi faccio vedere questo esercizio, attività pensata per studenti che possiedono il livello B1. Perché è scritto, come vedete, livello da B1? Perché sicuramente può essere un'attività proposta anche per livelli maggiori. In questo caso il B1 forse vi può sembrare un livello di partenza, forse ancora un po' basso per questo tipo di attività, ma poi vi spiego perché l'ho indicato. Allora, l'abilità è quella del parlato, che è quella che ci interessa, e l'obiettivo è quello di essere in grado di osservare e parlare di aspetti culturali. Le competenze che vogliamo sviluppare sono quelle appunto dell'esercitazione di strutture e suoni, occupandosi di varietà sociolinguistica e di essere fluenti nel parlato, che ovviamente è l'abilità che ci interessa. Vi spiego l'attività. Allora, l'insegnante presenta questo nuovo argomento per questa classe di studenti in cui si parla della famiglia nella cultura italiana e invita gli studenti a visionare delle diverse pubblicità. Io vi faccio vedere due esempi adesso di queste pubblicità, perché magari tra coloro che ci ascoltano ci sono persone molto giovani e quindi non sanno la differenza tra le pubblicità di riferimento. Allora, voi dovreste riuscire a vederle, la prima e sentirle, casomai anche qui mi avvisate. La prima è questa. Fusilli Barilla, fatti quelle gare più belle sapone della tua cucina. Alberto, interrompo un secondo perché non so se per i partecipanti è lo stesso, però io il video per esempio lo vedo abbastanza a scatti e faccio anche fatica a sentire l'audio. Non so se è un problema connessione, però... Io lo vedo bene, quindi non lo so. Vediamo cosa dicono. Ecco, allora Elena per esempio dice non sento, il video si blocca. Ok. Facciamo una cosa, provo a condividerlo. Io dal computer, dal mio computer, così vediamo se riusciamo ad ovviare a questo... Sì, non è essenziale, era solo per far vedere il contesto di differimento dell'attività, ma lo posso anche benissimo spiegare. Era per far vedere a chi è giovane e non ha visto questo tipo di pubblicità la differenza tra gli spot di alcune marche e tra ieri e oggi, ok? Quindi era solo questo per far capire il contesto di riferimento. Tutto qua. Se volete io ve lo posso mostrare molto rapidamente, condivido un attimo lo schermo e proviamo. Tanto il suo gusto per... È tutta un minuto, quindi non è nulla di... Ok, allora ce lo vediamo. Ok, e poi c'era anche l'altro, tu riesci a... Allora, l'altro... Facciamo così, intanto condivido questo, vediamo se funziona e poi in caso condivido anche l'altro. Dovremmo esserci... Ok. Vai. Fusilli Barilla Fatti per legare i più bei sapori della tua cucina. Fatti per legare i più bei sapori della tua cucina. Dove c'è Barilla? C'è casa. Ok, ecco, spero che adesso si sia visto. Sì, sì, allora io ho visto tutto benissimo, quindi... Ok, l'altro... Beh, intanto ti lascio proseguire. Allora, vado a vedere subito l'altro, se tu riesci a vederlo. Ok, come si chiamava? Fammi... Dammi supporto tecnico col titolo. Aspetta che adesso io non ho... Dunque, come faccio a vedere il mio schermo di nuovo? Eccolo qua. L'altra era semplicemente una... Ecco, esco da schermo intero ed era... Ciao Giulia! Questo. Com'è andata la partita? No, regalo. Lo vedi? Devo di essere la... Eh, no, perché io sto condividendo il mio schermo, quindi adesso devi dirmi tu. In viaggio verso di voi, in viaggio verso di voi Fusilli. E' quello... Beh, questo magari lo conoscete tutti, è quello con Favino, la pubblicità. Ok, ce lo vediamo e lo faccio partire. Oh, me lo dici? Due integrali alla butta nesca. Le mie, eh. Ma come integrali? Integrali? Integrali. Ah, non era questo. Altri mie piatti. Abbondanti! Pennite integrali Barilla, in viaggio verso di voi. Buongiorno. Era questo o non era questo? Non era questo, non importa. Era quello, ma questo ve lo ricordate sicuramente tutti, perché è recente, in cui lui è da solo e mangia con la figlia sul divano. Ecco, basta, è sufficiente dire questo. Ci sono stati dei piccoli disguidi a livello di connessione, ma tu adesso ricomincia a condividere il tuo PowerPoint, che con quello non c'erano stati problemi. Comunque, quindi basta che lo ricondividi e possiamo continuare. Ok. Ok, eccolo qua. Questo e questo. Ok, rivedete il file adesso. Era solo per farvi un esempio del contesto in cui si svolge l'attività. E si fanno visionare agli studenti inizialmente due pubblicità molto diverse tra di loro, come quelle che avete visto nell'esempio. Allora, in realtà, la prima rappresenta la classica visione della famiglia italiana negli anni Ottanta in cui c'è il papà che parte per lavoro e la mamma che resta a casa. Poi, nella seconda, invece, c'è un genitore single che pranza o cena a casa con la figlia. In questa prima visione di questi due video molto diversi tra loro, gli studenti sono invitati appunto a visionarli e a prendere degli appunti sul messaggio culturale che trasmettono. Quindi, mentre loro visionano questo video, prendono degli appunti sul messaggio culturale. Successivamente, agli studenti viene chiesto di dividersi in coppie, quindi, anzi, di unirsi in coppie e di confrontarsi su quello che hanno osservato. Quindi c'è un primo confronto, un primo utilizzo dell'abilità orale e da ciò che hanno osservato e confrontato devono creare un'unica lista di appunti. Quindi, ognuno porta la propria lista singola, si confrontano e ne creano una unica. A questo punto visionano altre due pubblicità, anche qui prese dagli anni 80-90 e una dei giorni d'oggi. La prima è una pubblicità in cui c'è la famiglia riunita che fa colazione, quindi vestiti tutti eleganti, mamma, papà, i due bambini e il nonno e il papà che, appunto, va a lavorare, la mamma, vestita comunque bene in tutto punto, sta a casa e saluta e sistema la colazione. Mentre nella seconda pubblicità c'è una mamma in pigiama che fa colazione con la figlia in maniera molto informale. Quindi anche qui gli studenti devono visionare e aggiungere altri elementi alla lista che già possiedono. A questo punto le coppie vengono unite in un gruppo e questo gruppo nuovamente si confronta sugli elementi osservati per creare nuovamente un'unica lista. E hanno quest'unica lista, quindi adesso si confrontano in quattro, maggiore interazione orale, e creano un'unica lista, di nuovo guardano altre due pubblicità sempre sullo stesso stile di prima. Ora abbiamo dei gruppi di quattro persone, chiamiamoli appunto A, B, C, D. Ogni elemento di un gruppo va a comporre un nuovo gruppo, quindi tutti gli A si ritrovano da una parte, B, C e D, e così via. In questo modo ognuno porterà nel nuovo gruppo una nuova lista e avrà abbastanza elementi per riuscire a comunicare. Questi nuovi gruppi che si sono formati dovranno osservare le immagini che sono, ecco, dei fotogrammi, qui vedete, sono dei fotogrammi presi dalle pubblicità, li devono dividere in categorie e li devono commentare. Quindi c'è un altro processo cognitivo che è quello della categorizzazione e li devono commentare. Ecco, vedete le tipologie molto diverse di immagini. In questo caso anche qui la mamma che saluta vestita elegante dalla porta, il papà che va a lavorare, invece quelle più moderne, i genitori da solo, un singolo genitore in pigiama che fa colazione o mangia, insomma, con i figli, e devono commentare e cominciare a riflettere sulla cultura italiana. Successivamente, da questa conversazione in gruppo, ci sarà una conversazione plenaria, quindi i gruppi si confrontano sulle categorie individuate, sulle osservazioni emerse. Poi, eventualmente, l'insegnante, se lo desidera, può proporre anche della ricerca di altre pubblicità oppure un confronto con la cultura di provenienza, con altre pubblicità, che è anche questo un lavoro molto interessante da proporre. Ecco, che cosa vogliamo far emergere con questo tipo di attività? Vedete che si chiede agli studenti di parlare, di comunicare tra di loro, di confrontarsi su aspetti culturali, quindi stiamo ricreando delle situazioni simili a quelle della vita reale, però il task per osservare il loro parlato è organizzato in modo tale da attivare i processi cognitivi reali. Cosa succede? Succede che noi forniamo agli studenti il tempo, anche perché siamo in contesto formativo, quindi dobbiamo insegnare a comunicare nella lingua target, diamo il tempo e gli strumenti ai nostri studenti per pianificare la loro produzione orale, per individuare le aree tematiche di riferimento, per capire il lessico, infatti devono prendere appunti e creare queste liste, queste liste che vengono aggiornate e migliorate grazie al confronto con il compagno. Questo confronto mi permette poi di aumentare sempre di più la mia competenza per la fase di produzione, quindi passare dall'idea pianificata, astratta tematica alla produzione orale per il commento insieme della famiglia, in questo caso, nella cultura italiana. Quindi capite che questo task che a me serve per osservare e anche sviluppare le abilità orali dei miei studenti è organizzato in modo tale da rispettare i processi cognitivi che lo studente mette in moto quando organizza un parlato. Nell'osservazione delle abilità orali, come vi dicevo all'inizio, secondo me questo tipo di struttura è fondamentale, proprio perché noi dobbiamo sviluppare il parlato nei nostri studenti e quando vogliamo valutare e osservare, anche in un solo contesto di valutazione formale, di esame, di valutazione anche alla fine di un percorso, dobbiamo rispettare quelli che sono i processi cognitivi attivati nella vita reale. Quindi offrire allo studente la possibilità di pianificare, capire l'area tematica di riferimento, collegarsi all'essico, alle strutture conosciute e poi tradurle, quindi da sistema astratto a sistema pratico e produzione. Queste fasi fondamentali le dobbiamo rispettare quando valutiamo l'orale. Quindi proporre dei task organizzati in questo modo, questo appunto è un esempio che io vi ho fatto vedere, poi voi a seconda dei vostri studenti, dell'età, del livello, li potete organizzare in maniera diversa, l'importante appunto è che ci sia il rispetto dell'autenticità situazionale e cognitiva. Questi task orali quindi vanno preparati. È una cosa che a volte magari non viene considerata con la dovuta importanza nel campo della valutazione, perché si pensa che sia sufficiente fornire una consegna ai nostri studenti e chiedere loro di parlare. Però non stiamo rispettando appunto l'autenticità cognitiva e magari anche nemmeno quella situazionale. Quindi in un percorso formativo è importante questi punti. Nei nostri task poi, che cosa osserviamo? Questo in realtà è una cosa molto semplice. A questa domanda rispondiamo in maniera molto semplice. Perché? Perché il quadro comune europeo ci fornisce già gli elementi che fanno parte della competenza comunicativa. Questo lo conoscerete sicuramente. È il modello di riferimento proposto dal quadro comune europeo di riferimento sulla competenza comunicativa in generale. Quindi per riuscire a sviluppare e attivare le abilità e le attività comunicative di ascolto, produzione, interazione, mediazione e quindi parlare, ascoltare, leggere, scrivere abbiamo bisogno di essere competenti dal punto di vista linguistico, sociolinguistico e pragmatico. Il quadro comune europeo ci spiega anche che cosa vuol dire tutto questo. Abbiamo le competenze che voi conoscete e queste competenze sono le strutture della lingua sono quelle parti linguistiche che permettono di parlare, ascoltare, leggere, scrivere e quindi è questo che noi dobbiamo osservare quando valutiamo l'orale. Ovviamente declinato a seconda degli interessi e dei livelli dei nostri studenti. Quindi una volta che noi conosciamo i bisogni dei nostri studenti costruiamo ovviamente un percorso formativo ad hoc e in base agli obiettivi noi osserviamo queste competenze linguistiche nei nostri studenti e le decliniamo a seconda delle attività che proponiamo. Vi faccio vedere un esempio anche di questo una tabella ecco di valutazione ah non ho più allargato ecco vedete l'età ormai gloca brutti scherzi una tabella di valutazione con la declinazione che abbiamo appena visto tra le competenze sempre queste del quadro comune europeo io scelgo per una determinata attività di lavorare con i miei studenti su alcuni di questi aspetti sempre per quanto riguarda l'orale che sono appunto la morfosintassi il lessico la pronuncia l'intonazione e l'efficacia comunicativa e li declino con dei descrittori ad esempio non lo so leggiamo l'efficacia comunicativa che è quella più importante per un livello basso come quello proposto per questa attività passiamo da un punteggio massimo per cui il messaggio è sempre efficace al messaggio è quasi sempre efficace è efficace ma necessita di aiuto spesso non è comprensibile o non è comprensibile quindi poi noi gestiamo la nostra valutazione a seconda di un po' di come stiamo abituati a seconda di come possiamo declinare questi descrittori agganciandoli a quelli che sono appunto i criteri i criteri li prendiamo dalla competenza comunicativa e quello del quadro comune europeo di riferimento secondo me è un ottimo modello è quello che che io utilizzo normalmente quando programmo e pianifico i corsi anche con gli insegnanti cosa cambia nel livello ad esempio a 1 o cosa può cambiare nei vari livelli con cui voi lavorate il peso dei criteri nella valutazione guardate un attimo questo esempio vedete che l'efficacia comunicativa ha un peso molto alto cioè il 40% della mia valutazione perché? perché il livello di riferimento di questo esempio vedete in alto è un a 1 un livello elementare perciò a me ad un livello elementare interessa osservare se lo studente è effettivamente in grado di comunicare quello che intende comunicare e se io insegnante o comunque persona che osserva la sua produzione interazione orale riesco a comprendere il messaggio quindi per questo l'efficacia comunicativa ha una percentuale molto alta quando cambiano queste percentuali? sicuramente a seconda del livello dei vostri studenti ma anche a seconda del lavoro che ha preceduto l'osservazione dell'orale qui ad esempio abbiamo pronuncia 10% se io ad esempio prima di utilizzare questa griglia di osservazione ho lavorato molto con i miei studenti sulla pronuncia qui ho scritto ho scritto interazione ma intonazione pronuncia intonazione ho lavorato molto sulla pronuncia intonazione ecco che il 10% diventerà un 20 un 30% perché deve seguire il lavoro che io ho proposto in classe d'accordo? se la mia valutazione è esterna quindi ad esempio perseguita per studenti che non ho seguito in un percorso formativo allora aggiusto il peso della valutazione a seconda del livello dei miei studenti degli studenti o dei candidati in quel momento alla valutazione d'accordo? quindi quando osserviamo i nostri studenti nella produzione orale costruiamo dei task autentici dal punto di vista cognitivo e situazionale e li osserviamo sempre con dei criteri adatti che prendiamo da dei modelli di riferimento in questo caso quello che vi sento di suggerire ma che sicuramente anche voi utilizzate e conoscete quello del quadro comune europeo di riferimento e dalle varie competenze che compongono la competenza comunicativa io scelgo che cosa osservare nei miei studenti in maniera ovviamente varia perché se mi occupo di un percorso formativo abbastanza lungo riuscirò ad affrontare i diversi elementi con i miei studenti quindi ad esempio una volta mi posso concentrare sui fattori socio-culturali altre volte su alcune competenze della competenza pragmatica altre volte linguistica in modo da offrire un percorso formativo a 360 gradi io osservo stabilisco appunto criteri e descrittori che mi servono per avere un feedback possibilmente di tipo qualitativo perché ho bisogno poi di sapere su che cosa necessita di lavorare il mio studente e aggiusto il peso dei descrittori a seconda del livello e del lavoro che ho svolto in classe ecco questo un po' per riassumere quello che abbiamo detto in questo momento che abbiamo condiviso insieme lascio il tempo per le domande vi lascio anche i miei riferimenti se avete bisogno sarò felice di rispondervi di scrivervi e di interagire con voi e passo la parola un attimo a Vittoria io intanto ok guardo eccoci qua ci siamo e allora un po' riassunto alla fine ci tenevo a dire queste cose importanti spero di non essere stata troppo veloce perché è un po' un mio difetto di essere riuscita a comunicare questi punti fondamentali per l'organizzazione della valutazione orale ok allora intanto ma intanto grazie Alberta tu adesso guardati con calma le domande che sono arrivate fino ad adesso la finestra domanda e risposta è ancora aperta quindi se viene se ne viene in mente qualcun'altra mandatecela che io adesso la passo la invio subito Alberta e proviamo a rispondere a tutto quello a cui si può rispondere in cinque minuti e poco più certo ci sono delle domande allora ok la prima domanda voi mi vedete sentite sempre vero? sì sì vedo che non mi sono stati segnalati in ghipi tecnici quindi secondo me è tutto sotto controllo perché qui con le tecnologie c'è sempre questa quest'ansia di non essere collegati allora viene chiesto questo schema è ripreso dalla tassonomia di Bloom la diapositiva che cosa vogliamo osservare nel parlato richieste linguistico cognitive allora lo schema non è ripreso dalla tassonomia di Bloom ma gli studiosi che se ne sono occupati sono partiti da questa tassonomia io vi ho fatto questo esempio di richieste linguistico cognitive che si possono presentare da livello A1 a C2 partendo dagli studi di Field che si occupa appunto dei processi cognitivi nelle variabilità in questo caso del parlato e di come sono stati declinati i suoi studi nel testing e nella valutazione e in particolar modo anche negli strumenti della Cambridge e dell'Alte che hanno richiamato questi processi cognitivi e li hanno collegati ai task da proporre agli studenti quindi ci sono degli studi che riguardano i processi cognitivi linguistici delle variabilità uno di questi studiosi appunto è Field che si rifà ad altri studiosi degli anni 60 che a loro volta partono anche dalla tassonomia di Bloom quindi anche l'osservazione è molto interessante allora sarebbe possibile avere il compito allora quello del task comunicativo l'attività esempio che vi ho fatto fare questo adesso io non ve lo posso lasciare perché fa parte di un libro che sarà pubblicato verso fine mese e se voi mi seguite anche nella pagina Instagram che ho lasciato vi lascerò i riferimenti e potete trovare il libro con tutti questi con tutti questi task la tabella sui criteri di valutazione le slide finali è quella del quadro comune europeo no è una tabella che ho creato io è una tabella che ho creato io potete trovare delle tabelle simili esempi simili in un mio volume sulla valutazione che è scaricabile gratuitamente lo trovate su internet quindi lo scaricate in maniera molto veloce sulla valutazione delle lingue straniere seconde a scuola e ci sono delle tabelle simili ne ho create alcune per fornire agli insegnanti degli esempi tenete conto che la tabella perfetta non esiste perché ognuno la deve adattare al proprio contesto di riferimento però potete prendere spunto per riuscire a organizzare descrittori e criteri all'interno di griglie di osservazione quindi la trovate lì scaricabile gratuitamente poi la vedete anche nelle slide in ambito scolastico dove la valutazione avviene in base a criteri interni ad esempio le indicazioni nazionali eccetera quanto possiamo utilizzare il suo modello preso dal quadro comunicativo europeo allora oggi ho fatto lezione proprio su questo l'università con i miei studenti proprio è l'argomento centrale quando noi ci riferiamo alle competenze comunicative a scuola quindi chi insegna le lingue a scuola secondo me dovrebbe veramente fare riferimento al quadro comune europeo e organizzare e progettare la valutazione con le indicazioni fornite dal quadro e così appunto anche l'osservazione e la valutazione io progetto in questo modo anche nei corsi di formazione per gli insegnanti ad esempio e facciamo anche poi la progettazione all'università con gli studenti che andranno ad insegnare abbiamo proprio come modello quello del quadro comune europeo di riferimento perché effettivamente rispecchia le abilità utilizzate nella vita reale con la lingua e quello dovrebbe essere il nostro sistema di riferimento per pianificare la valutazione le indicazioni nazionali in realtà abbiamo gli obiettivi io ho insegnato a scuola per diversi anni quindi capisco molto bene questa domanda abbiamo gli obiettivi e i traguardi di riferimento che sono macro sono la fine di un ciclo per arrivare a questi obiettivi e traguardi di riferimento possiamo organizzare la progettazione la nostra progettazione didattica formativa attraverso il modello della competenza comunicativa del quadro comune europeo di riferimento che tra l'altro ci suggerisce di utilizzare la lingua in azione quindi è preso a piccole dosi perché non è uno strumento facile però è sicuramente molto indicativo e utile per gli insegnanti un'altra domanda a suo tempo l'ultima allora ah certo grazie perché non l'avevo detto quindi nell'esempio fornito l'insegnante ascolta l'interazione fra i gruppi dall'esterno sì certo leggo tutta la domanda cammina fra i gruppi ascolta i singoli studenti oppure ogni gruppo presenta la classe intera i propri commenti ok in che modo la valuta no non si tratta di un esame si tratta mi chiede se si tratta di un esame come dà la valutazione l'insegnante non si tratta di un esame ma si tratta di una valutazione formativa praticamente lo studente scusate l'insegnante osserva ciò che gli studenti fanno all'interno prima delle coppie e poi di gruppi quindi si gira per la classe e quello che io suggerisco di fare sempre e di abituare anche gli studenti a questa cosa cioè che l'insegnante gira continuamente li osserva prende appunti non per valutare in maniera negativa lo studente ma per osservare in maniera formativa cioè per capire quali sono eventualmente le difficoltà o quali sono i progressi per aggiustare l'insegnamento per continuare con la pianificazione quindi sì l'insegnante cammina tra i gruppi e ascolta gli studenti e si annota in base ai criteri quindi quello che io vi suggerisco sempre di fare prima è di prepararvi la vostra griglia di valutazione barra osservazione intendiamo osservazione segnarvi dei criteri e quelli utilizzarli quando ascoltate i vostri studenti insegnate dei punteggi prendete appunti come preferite e in questo modo poi riuscite a capire come indirizzare l'insegnamento ma anche soprattutto come fornire un feedback di tipo qualitativo ai vostri studenti i vostri studenti di qualsiasi età dai piccoli ai grandi hanno bisogno di capire come migliorare è per questo che noi li osserviamo e poi riportiamo un feedback di tipo qualitativo e vediamo insieme su che cosa possiamo migliorare cosa possiamo correggere cosa possiamo imparare di nuovo rispetto a quello che abbiamo imparato finisco dicendo che questo tipo di attività che io vi ho presentato permette all'insegnante di osservare gli studenti gli studenti devono essere impegnati per nell'utilizzare la lingua nell'agire con la lingua questo tipo di task offre proprio questa possibilità dare gli studenti il tempo di lavorare di agire interagire con la lingua quindi lingua viva lingua in azione nel frattempo noi insegnanti abbiamo la possibilità di girare osservare e ascoltare in i nostri studenti che è un un momento di comunicazione ecco vi parlavo prima del mio libro sulla valutazione io in questo libro ho definito la valutazione un potente mezzo di comunicazione perché ci permette di entrare in contatto con i nostri studenti con le loro competenze quindi la valutazione è veramente un potentissimo mezzo di comunicazione il libro che uscirà a breve si chiama la classe mi hanno scritto la domanda la classe di lingue inclusiva punto gli studenti con altissime abilità io mi occupo anche di studenti gifted o con plus dotazione e questo è l'argomento del libro in cui però c'è anche un capitolo dedicato alla valutazione in generale adatta proprio anche a tutti gli studenti le attività ecco perché prima vi dicevo da B1 in su che possono sembrare complicate perché perché sono pensate per questi studenti con altissime abilità che hanno delle caratteristiche specifiche e poi voi li potete adattare poi anche alla classe inclusiva eventualmente anche per per livelli più più alti ci sono è diviso una parte teorica il libro è una parte pratica con decine di esempi di attività per i vari livelli quindi bambini scuola più o meno media quindi 12-14 anni a scuola superiore 14-18 anni per le lingue straniere seconde e qualcosa anche per l'italiano lingua materna le lingue materne cerco di ecco andare veloce perché il tempo è confuso eccoci ok allora vediamo un po' si ci sarebbe arrivato qualche altro commento sì allora Luca Luca Sciortino leggo solo senza inviarti grazie allora questo è il titolo del libro sulla valutazione o di quello in uscita sui task quello di cui hai appena parlato perché forse ci sono sovrapposte le cose allora quello dei task dell'esempio delle pubblicità barilla per capirci che vi ho fatto vedere è quello sui gifted quindi la classe di lingua inclusiva mentre la griglia di valutazione che vi ho fatto vedere con i criteri la trovate trovate delle griglie simili nel libro scaricabile questo gratuitamente da internet la valutazione delle lingue straniere seconde a scuola questo è il titolo ecco questo è chiaramente un libro interamente sulla valutazione quindi più specifico sulla valutazione mentre quello dei task è proprio per la pianificazione didattica pensata per studenti con altissime abilità e non e non solo ok allora un'ultima curiosità poi sono arrivate anche altri commenti però dobbiamo cercare di chiudere per questioni di tempo allora Chiara scrive una curiosità gli studenti approcciano l'attività consapevoli di essere valutati ah ok sì grazie di questa domanda sì allora quello che io suggerisco soprattutto chi insegna a scuola è di condividere da subito il modello di lavoro dell'insegnante cioè lo studente deve sapere che è costantemente osservato dall'insegnante chiarendo e questo l'ho scritto anche nell'ultimo libro chiarendo che la valutazione non è agli studenti ma è per gli studenti e c'è una grandissima differenza devono essere consapevoli che noi li osserviamo per migliorare il loro apprendimento non li osserviamo per valutare la persona o per metterli in difficoltà come spesso purtroppo viene percepito in ambito scolastico ma li osserviamo e anche valutiamo per migliorare il loro apprendimento e devono essere abituati quindi questo tipo di task non funziona se l'ho fatto una volta all'anno parliamoci chiaro per l'osservazione perché non saranno abituati all'insegnante che gira che prende appunti ci sarà un livello ansiogeno non indifferente ma deve essere la normalità quindi lavorare per gruppi a coppie l'insegnante che gira che si ferma che osserva deve essere la normalità il lavoro per competenze prima parlavate per chi insegna in Italia di indicazioni nazionali è questo che ci dicono le indicazioni nazionali di lavorare in questo modo per competenze co-costruire la conoscenza con i nostri studenti quindi sì devono essere consapevoli e anche quando valutate in maniera più formale devono essere consapevoli dei criteri i criteri vanno sempre condivisi perché conoscere i criteri sui quali io studente sono valutato mi permette di focalizzare la mia prestazione la mia performance io non posso concentrarmi su tutto soprattutto nell'orale e soprattutto se è un livello basso non posso concentrarmi su tutto non è possibile quindi quando so i criteri sui quali sono valutato indirizzo la mia performance in questo modo ed essere corretti non è aiutare lo studente ma essere corretti nella costruzione della sua performance ok vedo sì in chat che avevate scritto anche i livelli e molto molto bene siete stati bravissimi o bravissimissimi come dicono i giovani e avete scritto anche magari un B1 barra B2 certo perché sono sono livelli molto vicini e poi anche la consegna può essere leggermente adattata anche quella di descrivere una foto la foto è licita un tipo di linguaggio specifico quindi dipende anche da quello che voi proponete quindi bravissimi e bravissime tutti quanti ok bene altre cose allora altre cose purtroppo ci piacerebbe però no in verità insomma mi sembra che abbiamo risposto alla maggior parte delle delle domande che sono arrivate alcune più o meno no giravano attorno alle stesse questioni quindi penso che più o meno siamo riusciti a rispondere riuscite a rispondere a tutto allora a questo punto beh qui comunque avete come sempre i nostri contatti avete la nostra mail avete i contatti anche di Alberta Novello quindi se avrete delle domande in un secondo momento gliele potete inviare tramite questi queste informazioni di contatto visto che l'hanno chiesto parecchi partecipanti vi ricordo che questo webinar è stato registrato e che quindi tra qualche giorno potenzialmente già da domani sul nostro sito internet di casa delle lingue quindi partendo dalla home page voi entrate nella sezione formazione e poi da formazione entrate in webinar troverete ecco una pagina proprio dedicata al webinar di oggi con il video la registrazione completa e anche le slide che abbiamo condiviso con voi in diretta quindi avrete tutti gli estremi per recuperare approfondire quello che vi è stato spiegato oggi e detto ciò io ringrazio moltissimo Alberta Novello per la sua partecipazione è stato un piacere è stato molto bello e ringraziamo sia io sia Alberta anche tutti voi che siete stati qui online in nostra compagnia per questo ultimo webinar del percorso formativo su correzione e valutazione speriamo che ne seguiranno altri prossimamente grazie grazie Alberta spero di esservi stata un po' utile se avete bisogno mi scrivete e grazie grazie mille bene allora buon lavoro a tutti a tutte forza che è maggio possiamo ben sperare di farcela anche quest'anno e arrivederci al prossimo webinar sul quale vi informeremo molto presto grazie arrivederci a presto arrivederci a tutti a presto Grazie a tutti